Ciao, mi chiamo Eleonora e il mio nome mi rappresenta al 100% perché sono una persona veramente tanto confusa e piena di dubbi però posso dire con fermezza di avere una certezza nella vita ed è che amo gli animali Stasera ho un ospite speciale su me Per questo ho deciso di aprire il mio fantastico canale YouTube perché voglio condividere con voi parte della mia quotidianità sì perché io vivo proprio con loro 4 pelosi pazzi ma allo stesso tempo tenerissimi che riempiono le mie giornate di guai e di casini ma anche di tanto amore E poi voglio anche raccontarvi storie di animali incredibili che ho avuto modo di conoscere e che poi conosceremo insieme Grazie per essere più con me e noi ci vediamo al prossimo video Ciao!